Netflix ha rilasciato un report che si chiama What We Watched, molto interessante, è un CSV con tutti gli show che sono stati rilasciati tra gennaio e giugno 2023, con le informazioni su quante ore di visualizzazione hanno ricevuto quei contenuti. Quindi se volete fare una bella nerdata, c'è proprio tutte quante le informazioni con i nomi delle serie, se sono disponibili globalmente, quando sono state rilasciate e quante ore di visualizzazione hanno ricevuto. Però ragazzi l'importante è che la somma faccia 100,5, 100 virgola qualcosa la somma del percentuale dei titoli, quello è l'importante, altrimenti a noi non piace, di là faccio 99. Esatto, quindi in questo caso 100,05. Forse è l'interesse composto, 100 virgola qualcosa. No, perché devi sempre andare oltre le tue KPI, quindi è quello l'importante. E questa è una infografica di Peter Walker, di cui abbiamo già parlato in altre puntate, Head of Insights di carta. Però ecco, se volete, non Insights fatti di carta, carta è il nome dell'azienda, se volete siete curiosi, sono dati che potete andarvi a vedere. Per esempio la serie più vista sembra essere The Night Agent, che io non ho mai sentito nominare. Mai sentita? No, anzi si parla di stagioni, in realtà non di serie. Quindi The Night Agent, Jeannie e Giorgia, mai sentita? Ah, ok, quindi lo split è, quando ti parla di titoli, il titolo è la stagione, non è l'intero prodotto? Esatto, esatto, quindi dice Jeannie e Giorgia season 2, per esempio. È stata vista per 665 milioni di ore. Ok. Tra gennaio e giugno. Poi c'è per esempio mercoledì, che è al numero 4, la prima stagione, ed è stata vista per 500 milioni di ore. Mai sentite, ma qualcuno l'ha sentita di queste cose qua? Beh, mercoledì è andata molto virale, diciamo, mercoledì è stata abbastanza spinta sui social, era quella sulla famiglia Addams praticamente. The Night Agent, tanta roba, è un'azione thriller, ok. Sì, mercoledì sì. Sarà che non sono fuori dal mondo, ma c'era l'epoca in cui c'erano Game of Thrones, c'erano, che ne so, Stranger Things, mi sembra che negli ultimi anni sarà anche lo sciopero di un annetto fa. No, lo sciopero è finito pochi mesi fa, neanche un anno. Pochi mesi fa, è durato molto, quindi forse c'è anche un problema di produzione, o no? No, forse quello ancora non ha impattato, però ora che ci penso, scusa, Stranger Things, forse è uscito dopo giugno. E qua dice Stranger Things 4, addirittura sarebbe 113, sarebbe in posizione 67, però ecco, essendo uscita a maggio, ok, qua dice fine maggio, non ha avuto magari abbastanza tempo per salire le classifiche, forse quello pure fa la differenza. Ah, questo è fino a giugno, ok. Questo è fino a giugno. Sì, andrebbero normalizzate per il tempo di esposizione, quelle che sono uscite il 30 giugno. Addirittura all'ottantesimo, 88esimo posto c'è Breaking Bad, stagione 5. Ok. C'è Switch, che è uscita nel 2011, la stagione 2, subito dopo. Quindi che è stata molto spinta, anche questa sui social è andata abbastanza virale, non so bene perché, nonostante a me piaccia anche come serie, però è interessante vedere che qui in Europa mi sembra di capire che le prime tre, quindi Night Agent, Jeannie e Giorgia e The Glory, siano conosciute relativamente poco, in realtà. Quindi magari sono mercati... Io in chat qualcuno dice che le conosce, ma boh, io non le conosco, sarà che sono un po' fuori. Negli ultimi due anni ho visto zero serie, stavo vedendo Succession, ma qui penso che la notizia dove essere, immagino, guardate, il top 0,5% o il top 11,5% dei titoli fa il 73% delle views. Sia, diciamo, questo grafico non è stato fatto da Netflix, quindi questa è semplicemente alcune delle cose che le persone hanno estrapolato dal report che hanno trovato disponibile. Ah, ecco qua, addirittura fanno vedere tutte le serie che hanno ricevuto più watch time in quel periodo. Quindi questa è semplificazione. La distribuzione mi sembra normale, healthy. Sì, no, esatto. Non fa scandalo il fatto che la maggior parte del revenue viene dal top X%, è normale, qualunque distribuzione così è fatta così. Sì, no, infatti, devo dire che, ne parlavamo anche prima in live, si parla di Power Law, però in realtà a me sembra quasi una cosa positiva per Netflix che lo 0,5% abbia il 18% del watch time totale degli show, perché in realtà è quasi basso come numero, cioè me l'aspetterei più alto di 18%. Sì, faccio difficoltà a mettere una soglia, nel senso 0,5%, su quanti titoli parliamo? Se 2.000 titoli avevo letto? Allora, il CSV, ah, quante linee? Vediamo un attimo, torbendo subito. No, Roberto. È normale che il top poco per cento faccia tanto per cento, specialmente quando parli di cose artistiche, no? Cioè i top 10 quadri al mondo fattureranno, in termini di gente che li va a vedere, una bella percentuale tutto quanto. Allora, tra l'altro parliamo di 18.000 righe nel CSV, quindi comunque sono quasi 1.000 show. Il centesimo, 18.000 righe, parliamo 1.800, 180, 360 entry, no, 0,5, 30, i top 36 titoli fanno il 18%, ci stai, i top 36 titoli, ci sono tutti quelli più famosi, più nel momento, ha senso. Sì, quindi... Quindi vedi fino al trentaseiesima? Se quello 0,5 poi è giusto, non è approssimato, non è... però. I top 36, hanno messo la riga al 36, ma è stato anche un salto per fare più scena. Trovo che sia normale. Se vediamo su YouTube, il top 0,5% dei video di YouTube, penso avrà fatto l'80... Eh sì, quello diciamo, non siamo riusciti a trovare la stessa. statistica esatta, però c'era questo grafico molto carino, che fa vedere la distribuzione del numero di iscritti e il ranking dei canali, e quindi vedete che praticamente passare dal top 1 canali per iscritti su YouTube... Ma top 1 cos'è? Top 1 o top 1? Non è per cento perché arriva... No, 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 è totale, è totale. Quindi questo sarà quel canale lì indiano T-Series, non so se è ancora quello con più iscritti di tutti. Ah, ma non ha 50, ha 200 e passa milioni, se è Mr. Beast è il numero 2 e sta a 220, quindi non so bene cosa significa sto grafico. Ah, no, forse questo non è aggiornato. Sarà in... Ah, questo è febbraio 2018, febbraio 2018. Ok, questo sarà stato T-Series e poi PewDiePie. Era PewDiePie, quello era PewDiePie. Esatto, però vediamo, cioè si passa da 50 milioni a meno di 20, dalla posizione 1 alla posizione 7, e poi la curva, diciamo che... E poi questo è proprio hockey stick in un certo senso, in questa sezione. Long tail anche qua però, dai, abbastanza... mi sembra abbastanza healthy. C'è Vincenzo Capriotti che dice, è normale, ma anche un po' un problema, chissà quante perle sommersi nel mare di content. Sicuramente se parliamo di content non... non validato, cioè come dire, non curato, come YouTube, ma c'è anche tanta merda. Magari su Netflix, nella piattaforma curata, viene da pensare che la tail sia un po' meno long, perché comunque tutti i prodotti che hanno dovuto ricevere un finanziamento, essere approvati, non ci finisce il video di mia nonna che mentre prende l'aspirina col cucchiaino, per capirci. Che sarebbe una roba, eh? Una roba. Sì, è morta. Cazzo. C'era qualcuno in chat che chiedeva, ma se ci sono statistiche su quanti clienti ha perso o vinto Netflix dopo che ha fatto il blocco un po' più forte dei shared account. Sto cercando così al volo, però questa è solo un'ipotesi, diciamo, non penso che ci siano risultati ancora attribuibili a questo. Però ecco, in generale penso che il risultato sul numero di iscritti, specie nel breve periodo, sarà positivo. Ormai è diventato un'abitudine. E poi, chiaro, visto che c'è tanta concorrenza, magari le persone col tempo, pagandoli più, potrebbero lasciare il servizio prima o lasciarlo più spesso. Peccato non abbiamo dati. Perché l'ultima volta che Netflix ha avuto un calo di abbonati era uscito la notizione, il crollo, bla, 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 ti ricordi. Non so se hanno già rilasciato il report per il Q3. In teoria avrebbero dovuto Netflix Q3 report. Sì, in genere sono a fine del mese dopo, quindi a fine ottobre dovrebbe essere. Sì, la percezione che ho io, ma da osservazioni aneddotiche, è che la gente sta un po' disaffezionando queste piattaforme di streaming. Sento un po' quel sentiment online, mi sembra quello, poi non so se è basato su dati. Sì, no, ecco questo articolo invece CNBC, dice sì, reported abuse in subscriber growth, given by password sharing crackdown. Ok, quindi sembra che c'è l'effetto positivo di questo qua, ma è un effetto negativo generale, il fatto che qualcuno avrà poi deciso se non possiamo più condividerlo in quattro, non so se vale la pena che me lo faccia. Sì, è il secondo aumento più grande, scusa, è il più grande aumento dal secondo quarter del 2020, quindi in pieno covid, quando c'è stato un altro boom di iscrizioni. Sì, ma sembra come quando il governo italiano decide di includere anche il sommerso nel PIL, capito? Eh beh sì, sì, in un certo senso sì, però c'è anche la Costituzione dentro, il PIL è cresciuto. Però in questo caso si parla di revenue vere, perché non è che queste revenue prima c'erano e non venivano comunicate, questi erano utenti che hanno cominciato a pagare. Però gli utenti forse già c'erano, ma non pagavano, cioè hai desommerso la PIL, tra virgolette. Che però è quello che gli interessa alla fine, quindi quello è l'importante. Non penso che sia però questo scatto di crescita sia poi sostenibile nei prossimi mesi o addirittura. Ah no, secondo me potrebbe avere un impatto negativo invece sul churn, perché alla fine se tu ci pensi hai lo stesso numero di utenti, ma pagano di più, quindi di conseguenza il drop rate potrebbe essere più alto. Poi, chiaro, l'abilità in questi casi sta sempre nel trovare il punto di elasticità, il punto di ottimo, ecco. Se fosse facile... Beh, se non ci fosse concorrenza sarebbe anche un discorso più fattibile, ma se poi c'è concorrenza e... Sai che su Netflix avevo fatto una previsione tantissimi anni fa, non dimostrabile, ma mi sembrava una roba che era destinata a diventare enorme, gigantesca e incontrastata. Quando erano cominciate uscire fuori alternative, dico ma a che senso hanno che nascono il tizio che fa alternativa molto più povera. Quando è uscito tipo Disney Plus, c'è Netflix, ma uno si compra Disney Plus per vedere i 5 show della Disney, ad oggi a distanza di forse... Non so quanto è uscito, dico ma chi è che si fa Netflix, cioè Disney Plus è tutto, che altro devi farti? C'hai figli? Se c'hai figli Disney Plus fa fine, la vita è risolta. Però ecco per esempio, in questo caso, no, purtroppo Links si è perso metà tablerone, che te lo fai a fare Netflix se c'è il tablerone? Non serve, no? Poi diceva, vabbè, tablerone è solo un'ora a settimana. Vabbè, abbiamo 20 episodi di backlog. Quanti billion watch hours hanno fatto questi, questi sul top show di Netflix mercoledì? E noi invece di giovedì faremo altre billion watch hours. Esatto, esatto, quindi secondo me qua possiamo fare competizione. Beh, devo dire, forse Netflix, al momento tra tutte le aziende di streaming, è quella che sta soffrendo di meno, perché alla fine, come dicevamo anche prima, la distribuzione dei contenuti mi sembra più in salute rispetto a quelle di altre piattaforme. Hanno tanti contenuti, ne hanno anche di più di Disney Plus, che comunque sono guardabili da tutti, non solo dai bambini, sono contenuti magari anche più lunghi, perché Disney magari è tanti film, però le serie sono più... I bambini sono tanti. Sono tantissimi. Guardano tanti, e stanno sempre a vedere queste cose, a vedere queste principesse del cazzo. E poi tutte le serie di rosa, tutte le rosa, cioè, amore mio, non è detto che il rosa è un colore da 6 minuti, ma io sono rosa perché Ariel, perché Mulan, perché Raperonzolo, Raperonzolo de merda. Mi state... Uno ci prova, uno ci prova a non attribuire colori, però è impossibile. Tutto rosa. Dopo un po' diventa... Dentro il cervello viene... Ne parlavo ieri sera con mia moglie, diciamo, ma se non è perché ancora... Cioè, anche i prodotti, no? Vediamo su Regali di Natale, Babbo Natale... Eh, figlie mie, quando vedete questo video sappiate che Babbo Natale non esiste. Vediamo Bambolotti, ma perché per forza rosa e blu, rosa e blu, rosa e blu? Ho detto il cazzo. Però è così. Sì, diciamo che da una parte c'è tanta... Se ne parla tanto, però poi probabilmente dall'altra non... Vende di più, però fa Bambolotto verde, non c'è ancora nessuno. Fai il Bambolotto verde per dire, no, comunque dobbiamo pensare all'inclusività, però le vendite le fai ancora con i Bambolotti blu e rosa e quindi quelli continui a metterli sullo scherfone. È come il Decoy Price, no? Oh, se vuoi c'è anche l'abbonamento Super Premium, mi costa un miliardo, però va tranquillo, guarda quanto è bello quello rosa. Esatto, esatto. Fai la Bambola inclusiva che è tipo il top tier. Che ha tutte le etnie, ha alcuni capelli lunghi, ha un po' è pelata di qua. Esatto, esatto. Così la zia che vuole fare l'inclusiva lo compra ai nipotini, però poi invece i genitori che comprano cose tutto l'anno dicono, sai che c'è? Ma lo vogliono rosa e diamo io rosa. Sì, 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 ci vuole tempo per cambiare queste percezioni, dai, non è facile. Da dove eravamo partiti con questa... Eravamo partiti da Netflix, dal discorso della distribuzione dei contenuti di Netflix e insomma quante persone guardano quale numero di show. Sì, penso la conclusione sia... Pensavo peggio, cioè pensavo che lo 0,5% di show di Netflix potessero ammontare anche al 30% di watch time. Invece no, riescono ad essere abbastanza... Essendo una piattaforma curata ovviamente non entra nessun prodotto se non riceve anche un po' di marketing. Ripeto, non è YouTube. Se YouTube è il top 0,5% dei video avrà fatto il 90% delle views. Di sicuro? Non lo so, non lo so. Pare, c'è tanto i video che ci stanno, eh. Sì, eh, sì, è vero, quello è vero, sì. Secondo me tipo il median video, il video che sta a metà classifica di watch, di views, ne ha tipo 3 di views. Faccio un claim assurdo, è pieno di video con 0,5% di views. Eh, sarebbe interessante fare queste analisi. La tail è lunghissima. Sì, quello è vero. Tipo se prendi il video che ho visto, Baby Shark sarà come il bottom 10% di tutti i video messi assieme. Però devi considerare che la gente si guarda il video da solo almeno una volta. Quindi invece da partire da 0, parti da 1. Dai, quello è. E poi, io trovo dei video con no views. Io non me lo riguardo, Baby. Se potessi scommettere sul median video. Sono tutti i canali YouTube automatizzati con la voce robotica in sottofondo. C'è, c'è la merda. Quindi dico, essendo Netflix curato, ogni prodotto che arriva lì ha ricevuto il lock della piattaforma e a quel punto ci sarà anche marketing. È improbabile una serie faccia a 3 views. È improbabile. Sì. Sì, diciamo specialmente adesso. Qui, diciamo, la 18 millesima, 18 millesima serie ultima, dello spreadsheet, comunque a 100.000 ore di watch. Capito. Poi ti faccio vedere invece... Sarebbe stato bello avere preparato in mente qualcuno da dissare. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho in ritardo. Aspetta, aspetta. Video medio di Michael Pino. Ormai è il mio dissing, caro. Adesso mi scriverà, facciamo reaction, mannaggia. Michael, io non c'entro niente, eh. Non so... Ma neanche io, te se vuole bene. No. Diciamo se Google ti lascia i dati. No, non credo. Però immagino tutto quanto è pull up. Sì, YouTube è abbastanza chiaro. Se tu vuoi fare uno script che fa... Hai qualche... Exabyte di spazio e banda passante... Se hai qualche invidia a 100, che era a 100 o a 1000, che ti avanza, vuoi metterla al lavoro. Qualcuno faceva crawling tipo questi spike trap, oppure social blame, e con... Andando a sparare a caso sul video ID, trovavano anche i video unlisted, trovavano. Ah, è vero. È un po' brute force, puoi farlo, eh. Cioè, vuoi divertirti a fare brute force sui video ID. Minchia, questa cosa è... Trova gli unlisted. Vabbè, te? Cioè, non so com'è aggirabile, senza cominciare a fare casini con cookie... Credo che abbiano aggiunto qualche bit di ridondanza in più, e dire... Ancora più dati, come dire, è ancora più difficile, è più vuoto lo spazio della... Sì. Della mappatura. Però... Sì, 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 sì. Mi sembra che ci fu una tutura su un video di Markiplier, che erano entrati in un video unlisted. Vabbè, una roba.